Siamo nell'atrio di una casa scavata parzialmente già più di cento anni fa, adesso continua lo scavo nell'ambito di un progetto di sistemazione dei fronti di scavo per migliorare le condizioni di conservazione qui nell'insola 10 della Reggio Nona Pompei e durante questi lavori è venuto fuori un affresco di una tipologia molto diffusa, quella dei Xenia, dunque dei doni ospitali, frutta, una focaccia, un calice di vino che troviamo a Pompei, Ercolano e negli altri siti, questa è particolare perché quello che vediamo supponiamo che sia una specie di focaccia sacrificale, un'offerta con sopra forse un condimento delle spezie, un tipo di condimento, ma soprattutto anche melograni, datteri, altri cibi davanti forse delle noci, una ghirlanda di corbezzoli, dunque un'immagine che ovviamente l'osservatore moderno fa subito tornare in mente una pizza soprattutto in terra napoletana, ovviamente non è così, però potrebbe essere un lontano antenato di questo cibo, anche qui giocato sul fatto della semplicità, un cibo essenzialmente agricolo povero, però con un prezioso vassoio di argento, un calice di argento e poi anche la pittura ha il suo costo, ha il suo valore e questo è lo stesso gioco che troviamo anche nella poesia, nella letteratura dell'epoca dove si parla appunto di questi Xenia, di questi doni ospitali offerte in un contesto molto sofisticato, ritornando alle origini semplici e frugali. Grazie. Grazie.